La showgirl di Riccione ha fatto il punto sulla sua vita sentimentale e sulla sua carriera, svelando degli interessanti aneddoti. Tempo di riflessioni e bilanci per Martina Colombari. La showgirl, intervistata da Grazia, ha fatto il punto sulla sua vita privata e professionale, svelando diversi curiosi aneddoti. Dai segreti dell'amore condiviso con il marito Alessandro, Billy, Costa Curta, al rapporto, complicato con il figlio Achille, fino alla cottarella, presa per un giovanissimo giovanotti e alla rivalità con Manuela Arcuri, con la quale ha lavorato sul set della Fiction Carabinieri, di questo e molto altro ha parlato l'ex Miss Italia. Al magazine, parlando di «alti e bassi», ha preferito prima di squisire in merito alle note positive. Entrambe odorano di famiglia, comincerei dagli «alti», la nascita di mio figlio e la verità di aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni. La showgirl ha aggiunto che un altro fattore positivo è stato l'aver iniziato a impegnarsi nel mondo del volontariato, con la fondazione Rava, fatto che l'ha arricchita da punto di vista personale e umano. La Colombari ha poi posto particolare attenzione sul figlio Achille, che a breve compirà 18 anni. È un ragazzo un po' complicato, ha spiegato la modella, ci sta dando filo da torcere. L'ex Miss Italia ha quindi sostenuto che la generazione odierna è parecchio influenzata dai social e dal desiderio di ottenere tutto in maniera rapida. Oggi devo essere severa con lui, ma ricordo quando era piccino e si rannicchiava in braccio, ha ricordato con un filo di dolce nostalgia. Capitolo Matrimonio con Costa Curta, la relazione dura da più di 5 lustri ed è solidissima. Qual è il segreto per continuare a stimarsi e a scegliersi ogni giorno dopo così tanto tempo trascorso fianco a fianco? Credo che il nostro segreto sia l'aver sempre rispettato lo spazio dell'altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione, normale, viaggiare, andare a un ristorante o a una mostra.